Noi abbiamo 79 morti, il 95 se non più di un per cento di questi casi erano anziani e già con malattie croniche. Quindi dobbiamo guardare... E' un'eccezione. ...a oggi, ripeto, a oggi è un virus nuovo e dobbiamo avere la modestia tutti di valutare giorno per giorno cosa accade e avere anche la modestia di dire probabilmente l'ipotesi precedente non era quella più azzeccata. ... ... ...